I valori scendono in campo. Questo è il nome della manifestazione svoltasi oggi presso lo stadio Essenetto di Agrigento. L'iniziativa indetta dalla Federazione Italiana Gioco Calcio è un progetto didattico e formativo avviato in Italia nel 2008 e che si concluderà il prossimo anno. I protagonisti che scendono in campo sono gli alunni che frequentano il secondo ciclo delle scuole primarie. Lo scopo dei promotori è quello di portare all'interno delle aule scolastiche i miti, le regole ed i valori del calcio per promuovere l'identità sportiva e culturale di questa nazione. Coinvolgendo i bambini in un'attività che sia contro ogni forma di violenza e che miri alla riscoperta di una passione sportiva che unisce la convivenza sociale della gente. Per portare avanti l'attività educativa la FIGC ha chiesto la collaborazione degli uffici scolastici regionali, di quelli di coordinamento di educazione fisica e degli enti locali. Dell'organizzazione del progetto nella provincia di Agrigento se ne occupa il provveditorato agli studi. Nello scorso anno scolastico del progetto facevano parte alcune scuole localizzate in solo 10 regioni italiane. Da quest'anno invece l'iniziativa è stata estesa a tutto il territorio della penisola coinvolgendo 100 province su 109. Le scuole elementari che in provincia di Agrigento partecipano al concorso sono 9. Per la città di Favara sono presenti gli alunni del secondo e del terzo circolo didattico ovvero quelli del plesso Falcone Borsellino e quelli della scuola intitolata Gaetano Guarino che ha sede in via Basile. Anche l'amministrazione comunale di Favara ha aderito al progetto della FIGC presente oggi nell'impianto sportivo a Grigentino. Anche l'assessore comunale allo sport Joseph Zambito che insieme all'assessore al comune di Agrigento Roberto Campagna e al delegato provinciale della federazione gioco calcio Salvatore Saieva hanno premiato gli alunni degli istituti che hanno partecipato all'iniziativa. Assessore anche il comune di Favara aderisce all'iniziativa della FIGC valori scendono in campo presenti tra l'altro due scuole proprio di Favara. Noi abbiamo incoraggiato questa importante iniziativa perché riteniamo lo sport un sano elemento, un sano valore e principio per innescare nei confronti e inculcare nei confronti delle giovani generazioni quei principi sani della lealtà, della correttezza, lo spirito democratico, lo spirito sportivo che in ogni caso questa amministrazione sta portando avanti. Assessore alla sua prima uscita ufficiale in una manifestazione del genere oggi la città di Agrigento ospita le scuole, diverse scuole della provincia. Sì per me la prima in assoluto perché sono assessore allo sport da tre quattro giorni quindi mi hanno invitato in questi giorni a partecipare a questa importantissima manifestazione e quindi di buon grado ho accettato. I valori scendono in campo nel senso che noi addetti allo sport come gli insegnanti quindi le scuole dobbiamo insegnare e trasmettere ai bambini i valori dell'amicizia, del rispetto degli avversari eccetera. Per me i bambini sono un bene prezioso e in quanto bene prezioso quale valore se non il bambino stesso è il valore aggiunto. La risposta che oggi hanno dato questi ragazzi dentro questo campo diciamo che è la conclusione di una manifestazione che noi puntiamo molto perché la federazione non vuole oggi dare i fondamentali, vuole scoprire il campione ma la federazione vuole fare scoprire ai bambini i veri valori dello sport che sono quelli chiaramente non quelli che vediamo in televisione, assolutamente no, ma sono gli atteggiamenti positivi che il calcio deve dare e ce ne sono tanti e speriamo che questi bambini crescendo riescano a portare avanti questi valori. La cosa che hanno fatto pure i bambini è degli elaborati, degli elaborati che sono stati diciamo selezionati, ci sono state le classi che hanno vinto questi elaborati, uno elaborato verrà mandato a Palermo e sua volta a Roma e verrà premiato con delle porte, dei palloni del materiale che la FGC a livello nazionale manderà alla scuola vincitrice. La cosa diciamo che più ci ha fatto piacere a me e a Stefano Valenti che siamo i due che abbiamo realizzato questa attività insieme naturalmente tutti i collaboratori della FGC è la riuscita e l'entusiasmo che i bambini hanno manifestato sia nella preparazione di questo progetto durante le nostre visite nelle varie scuole che nella manifestazione finale che è questa di oggi. I valori di centone in campo sono un modo diverso di fare calcio, non il calcio della ribalta, degli stadi di centromila persone, ma è il calcio dei bambini, il calcio della lealtà, il calcio che coniuga valori e divertimento. Quindi cerchiamo con un progetto che comunque sia fondamentalmente educativo, cioè coniugare la storia con il calcio, la geografia e tante altre discipline tipiche della scuola giocando a pallone. È qualcosa di veramente innovativo e la Federcalcio su questo ci ha investito e devo dire che vedendo i bambini che sono in tribuna è un investimento vincente. Grazie a tutti.